Benvenuti ad una nuova puntata di Fondazione Magazine. Questa volta parleremo di uno dei grandi argomenti che riguardano Vercelli e il territorio, ovvero l'Università. L'Università del Piemonte Orientale con tutte le sue attività. Lo faremo con la professoressa Maria Napoli, docente dell'Università del Piemonte Orientale e cercheremo di capire qualcosa in più riguardo ai progetti e ce ne sono parecchi che coinvolgono Vercelli e il suo territorio. Benvenuta professoressa Maria Napoli, Università del Piemonte Orientale. Siamo qui per discutere e fare due chiacchiere riguarda qualche cosa che è una delle grandi scommesse di Vercelli, qualcosa che è nato anni fa e che comunque comincia a radicarsi già da parecchio si è radicato sul territorio e continua a svilupparsi e a reggere e ad attirare studenti e attività. Quindi volevo chiedere molto velocemente per introdurre ovviamente il discorso come vanno le cose, come sta progredendo appunto la sede di Vercelli ma non solo, insomma tutte le sedie dell'Università del Piemonte Orientale. Benissimo, intanto grazie alla fondazione CRB per questa opportunità, grazie a lei. Io sono appunto una docente dell'Università del Piemonte Orientale e sono qui anche come delegata del rettore alla ricerca. L'Università del Piemonte Orientale è un ateneo giovane, diventato da poco maggiorenne o relativamente da poco, appunto un po' più di vent'anni e è un ateneo che oggi vanta otto dipartimenti su tre sedi che sono Vercelli, Novara e Alessandria, quindi è un ateneo tripolare in cui appunto l'avere tre sedi e quindi diverse discipline, diversi dipartimenti, diversi interessi scientifici in un territorio ampio costituisce proprio la peculiarità del nostro ateneo e quindi anche della nostra didattica e della nostra ricerca. A Vercelli in particolare ci sono due dipartimenti, cioè il Dipartimento di Studi Umanistici, di ISUM e davvero da poco il Dipartimento di Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica, quindi un dipartimento nuovissimo sia per le tematiche che lo ispirano, che sono ovviamente molto attuali, sia appunto per la recente fondazione e naturalmente in questi ultimi anni Upo è cresciuta moltissimo sia in termini appunto di iscrizioni sia in termini del personale, docente, tecnico, amministrativo che fa parte di questa grande famiglia come possiamo definirla. Certo, questo mi fa pensare che comunque, come è logico, in questi anni ci sia stata un'evoluzione anche non solo delle discipline ma immagino anche un pochino degli studenti che approdano a Vercelli, quindi sono un pochino cambiate le tipologie grazie anche all'introduzione di nuove discipline, nuove materie insomma. Sicuramente perché l'Ateneo nasce come un Ateneo appunto fortemente radicato nel territorio che naturalmente attira studenti dal Piemonte, però ultimamente cresce sempre di più il numero di studenti che provengono anche da altre regioni d'Italia e adesso ultimamente anche studenti dall'estero, quindi siamo molto contenti di questo aspetto che ovviamente speriamo di incrementare pur restando ferma la grande attenzione al territorio che UPPO appunto ha costituzionalmente per quelle che sono le sue caratteristiche e anche diciamo la missione delineata nel piano strategico. Certo, allora parlavamo di studenti, parlavamo appunto dell'università e di come si è radicata e arriviamo un pochino a quello che è uno dei grandi temi interni a queste istituzioni ovvero la ricerca. Ecco, l'attività di ricerca so che è qualcosa di assolutamente in pieno sviluppo e che sta cambiando e si sta in qualche modo evolvendo positivamente. Se può dirci qualche cosa a tal proposito perché è veramente uno dei centri nodali. Certo, anzi la ringrazio per la domanda perché appunto negli ultimi anni UPPO davvero ha messo in campo dei progetti importanti. Se così curiosate sul nostro nuovo portale della ricerca vedrete che al momento sono attivi più di 570 progetti e l'elenco va ad aumentare perché di recente ne sono stati finanziati molto. Alcuni di questi progetti toccano quelli che sono i temi fondamentali dell'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e quindi sono progetti di ricerca che davvero riguardano temi attualissimi dal cambiamento climatico, per esempio appunto ai problemi di genere e così via. Non posso ovviamente riassumerli tutti, però sono i problemi, i temi più attuali e più urgenti che la società è chiamata ad affrontare naturalmente relativamente a aspetti diversi per cui l'interdisciplinarietà è una caratteristica molto importante della metodologia con cui alcuni di questi temi vengono affrontati nel nostro Ateneo. Docenti e ricercatori di dipartimenti diversi, di discipline diverse che uniscono le loro forze, le loro specificità per affrontare appunto questi problemi e temi difficili. E poi naturalmente c'è quella parte della ricerca che diciamo è in termini tecnici ispirata dalla curiosità, cioè la ricerca curiosity driven, portata appunto dalla curiosità, che magari riguarda temi apparentemente meno urgenti, meno appunto... Per esempio? Eh, per esempio è difficile fare un esempio perché questo dipende dalle varie discipline, però ecco tematiche che non sembrano in questo momento magari particolarmente attuali possono diventarlo un domani e allora anche questo tipo di ricerca va ovviamente stimolata e favorita e questo insomma vale per tutti gli ambiti disciplinari, da quello della medicina a quello umanistico naturalmente. chiaro. Affrontiamo un altro dei grandi temi, soprattutto in questo periodo, che è quello dei finanziamenti, ovvero l'università si regge, vive grazie appunto a dei sostegni, quindi fondazione è un esempio, ma ci sono altre realtà e come funziona esattamente, senza entrare ovviamente nei dettagli, ma voglio dire anche questo è un qualche cosa di, tra virgolette, curioso, non tutti forse sanno come l'università vive e come si sostiene, come si sviluppa. Beh, per l'università i finanziamenti della ricerca sono ovviamente fondamentali perché da una buona, da un'ottima ricerca dipende anche un'ottima didattica e in questo l'università del Piemonte Orientale ha sicuramente ottenuto dei risultati eccellenti perché, per esempio di recente, nell'ultima valutazione ministeriale della qualità della ricerca, anche qui in termini tecnici VQR, UPO ha ottenuto dei risultati eccellenti e in particolare ha avuto tre dipartimenti che hanno concorso per diventare dipartimenti di eccellenza. Uno di questi, uno dei dipartimenti di medicina, è stato appunto finanziato. Quindi diciamo che i finanziamenti ministeriali costituiscono ovviamente una buona parte delle risorse che l'università utilizza per la propria ricerca e il 2022 e il 2023 sono stati da questo punto di vista anni importanti perché ci sono stati molti finanziamenti legati al PNRR per esempio e appunto a progetti ministeriali di vario tipo, però c'è anche il finanziamento privato, cioè il finanziamento delle aziende, delle imprese, che ovviamente riguarda spesso settori più scientifici che umanistici e per i settori umanistici di grande importanza sicuramente il finanziamento delle fondazioni. Grazie a Fondazione CRV per esempio viene sostenuto il dottorato nell'Università del Piemonte Orientale, in particolare il dottorato appunto, uno dei dottorati, dei nostri dottorati che in parte ha sede proprio a Vercelli e che riguarda l'ecologia dei sistemi culturali e istituzionali. Bellissimo anche questo. Ritorniamo di nuovo a, voglio dire, in qualche modo agli studenti, alla vita e al radicamento sul territorio perché andiamo a parlare di un argomento che è un po' un tormentone se posso permettermi perché da anni se ne parla ed è qualche cosa di bello e che in qualche modo dovrà svilupparsi nel miglior modo possibile, ovvero i campus. Questi famosi campus universitari, adesso so che ci sono dei progetti che stanno, si stanno sviluppando su Vercelli ma anche su Alessandria. Ecco, se può dirci qualche cosa perché è un tema assai caro, come può capire, a chi decide di venire a Vercelli e quindi scegliere una delle discipline di cui parlavamo prima. Sì, è un argomento molto caro anche a noi perché naturalmente avere un campus dove gli studenti possano incontrarsi, condividere in maniera appunto, come dire, strutturata appunto e più agevole le loro esperienze di studio, di ricerca e di didattica è fondamentale per l'università. C'è un progetto in corso per un campus ad Alessandria e c'è un progetto in corso per realizzare un campus a Vercelli, ancora diciamo così nella sua fase nascente però speriamo bene di poterlo portare avanti nel modo migliore e che Vercelli possa avere il suo campus presto. Perfetto, professoressa io la ringrazio ovviamente di tutto quel che ci ha detto e ringraziamo l'università per tutto quello che avviene e che dà alla città e magari ci riaggiorniamo su qualcos'altro prossimamente, qualche progetto che sicuramente verrà sviluppato. Molto volentieri e grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.